Affondi, in avanti. In piedi, gambe divaricate come l'ampiezza delle spalle. Eseguire un passo in avanti, mantenendo il tronco, il più eretto possibile. Piegate il ginocchio dell'arto avanzato, fino a formare un angolo leggermente acuto, oppure retto. Facendo forza sulla gamba davanti, ritornate in posizione di partenza. Attenzione! L'ampiezza del passo in avanti, varia la distribuzione del carico di lavoro, sui gruppi muscolari. Potete eseguire l'esercizio in due modi. 1. Compasso breve. Forte sollecitazione del muscolo quadricipite e carico di lavoro ridotto sul gluteo. 2. Compasso lungo. Forte sollecitazione del muscolo grande gluteo e dei muscoli ischio-crurali, con conseguente allungamento del retto femorale dell'arto arretrato. Errori comuni 1. Appoggiare al suolo il ginocchio dell'arto arretrato. 2. Curvare la schiena, dopo aver eseguito il passo in avanti. 3. Ampiezza delle gambe eccessiva, che procura una posizione instabile, e causa problemi di equilibrio durante l'esecuzione. 6. Comunciamo il solito arretrato. 7. Comuncere karico di lavoro varia la schiena, toma una attesa risunzione. 9. Comuncere use the sperm border della schiena, ogro a far 61. 17. Comuncere 24.